Era previsto a cura del direttore Nicola Dell'Acqua, il direttore generale di Arpa Veneto. Il direttore ha avuto un problema personale, quindi si scusa, ma c'è il nostro collega Italo Saccardo che lo sostituisce, quindi ho piacere di dare la parola ad Italo per affrontare il tema dei rischi naturali, che è anche uno tra l'altro dei temi che affronteremo nei tavoli del pomeriggio. Anche per te Italo, 20 minuti. Spero anche meno, così guadagniamo tempo e porto chiaramente i saluti del nostro direttore generale ancora per pochi giorni, perché questo è il motivo dell'impossibilità, perché oggi c'è l'ultima riunione di direzione, per quello non c'è neanche il direttore Terrabuio e altri colleghi, quindi mi ha detto simpaticamente vai tu che sei il più anziano di quelli che non contano, per presentare, ci conosciamo con molti. E quindi ho anche qualche difficoltà nel presentare, perché me l'ha detto ieri, questo tema dei rischi naturali al cui il dottor Dell'Acqua, come sapete per la sua storia, e anche per la storia dell'agenzia, è particolarmente attaccato perché implica un rapporto non solo con le imprese, non tanto per questo tema, perché sicuramente ha delle valenze anche rispetto alle imprese, soprattutto per lo sviluppo tecnico, industriale, come potremo vedere, ma soprattutto con i principali stakeholder che sono la protezione civile, sono i comuni, sono i vigili del fuoco, sono tutto il sistema nazionale di emergenza, di protezione civile, anche proprio in funzione dei rischi naturali che sono di diversa natura. è che qua tratterò, anche citando, ricordando un recente lavoro che è stato fatto proprio dal sistema nazionale, di cercare di trovare un tavolo comune tra tutte le agenzie ed Ispra, per trattare non solo i rischi naturali, ma tutte le emergenze di tipo ambientale, sia quindi quelle industriali e tra cui anche quelle naturali, che come vedremo però, mentre quelle di tipo industriale, quelle ambientali tradizionali, sversamenti, quelli che siamo abituati, arpisti ma anche imprese a conoscere, sono sicuramente di competenza delle agenzie, senza ombra di dubbio, e di Ispra, per quanto riguarda i rischi naturali, per la storia delle agenzie e delle varie organizzazioni, non sempre questi aspetti, trattazioni dei rischi naturali, sono completamente o tutte dentro tutte le agenzie d'Italia, questo lo do come comunicazione per gli operatori tecnici. Di quali rischi naturali parliamo? Idrogeologico, e qua non voglio fare le distinzioni, perché in questo momento si parla di rischio per temporali, quindi soprattutto per gli eventi intensi, che provano colate detritiche, allagamenti della rete idraulica secondaria, o rete minore, delle aree urbane, quello che sentiamo in questi giorni, si parla di modifiche climatiche, quindi di queste bombe d'acqua, poi qualcuno da Pocaniella potrà dire meglio di me, queste valutazioni. Poi dal punto di vista ideologico, anche la gestione delle grandi frane, idraulico, per la sicurezza idraulica dei fiumi, ultimamente è entrato nei rischi naturali, anche la siccità, perché da alcuni anni è anche stato formato un cosiddetto osservatorio per la gestione delle siccità presso i distretti, che quindi questo è un altro stakeholder, un altro di quegli elementi in cui le agenzie quasi tutte collaborano, se hanno queste competenze. I rischi meteo, qua volevamo parlare dei rischi legati alle trombe d'aria, legati alla neve al suolo, soprattutto in pianura, legati alle gelate, il rischio valanghivo, che anche qui viene trattato in maniera non uniforme per le agenzie, ma reggiate, lo stesso rischio sismico, nel quale siamo chiamati ad intervenire per, chiaramente non in termini di previsione o di trattazione del rischio sismico, ma nell'ambito delle attività di soccorso e di ripristino del territorio, nonché incendi boschivi. Allora, volevo riprendere il ruolo del sistema nazionale per la gestione delle emergenze, sia trattando quelle antropiche naturali. Qua si rischia di fare un po', scusate, forse non di confusione, ma però le ho volute trattare insieme, perché poi appunto voglio ricordare un recente documento del linee guida fatto dal sistema nazionale proprio su questo tema. Allora, a fronte di emergenze antropiche o naturali, questo è un assioma in generale, le agenzie ed Ispra cosa forniscono alle autorità competenti? Informazioni ai dati, elaborazioni, contributi tecnico-scientifici e questo sia avviene in tempo di pace sia per fronteggiare delle emergenze. Vengono fatte eventuali indagini per l'innovazione delle cause primarie dell'evento, soprattutto per quanto riguarda le emergenze antropiche e alcune delle nostre agenzie danno direttamente un supporto al sistema nazionale di protezione civile anche tramite i centri funzionali decentrati, che sono poi, lo vedremo, i centri da cui partono gli allertamenti per il rischio idraulico e idrogeologico. E anche in questo tema c'è il supporto alla predisposizione di piani di protezione civile o di emergenza. Ecco, il tutto nasce da questo documento che adesso cito, però lo potete scaricare, parlo per le imprese, chiaramente in internet, che però è già uno degli elementi di questo sistema, cioè del nostro sistema, che cerca di dare un minimo comune denominatore a tutte le agenzie in modo che tutti possiamo, con la difficoltà di cercare prima il collega, trattare la stessa materia possibilmente nello stesso modo. Per esempio, parlo per gli operatori, che una cosa che, ma capita, penso che sia capitato a tutti i colleghi arpisti, che qualsiasi cosa succede veniamo chiamati nel territorio per intervenire. Per intervenire. Allora, l'agenzia e il sistema, per le finalità e il mandato, per la preparazione professionale, in questo momento non sono enti di soccorso né di intervento diretto a favore di chi si trova in stato di necessità o di pericolo. questo capito anche per il tema ambientale dei rischi naturali. L'intervento quindi è un intervento di preparazione, di previsione di un evento, di trattazione, di presentare il quadro sinotico delle informazioni ambientali, la messa a disposizione di tutti i dati, se serve e quasi sempre serve essere presenti per fare dei campionamenti, fare delle misure e questo non solo per i rischi ambientali ma anche per i rischi naturali molte delle nostre attività a fronte di una piena molti di noi sono presenti per fare misure per controllare qual è la portata o quali sono le condizioni di quella piena. Quindi questo avviene sia per i rischi antropici che per i naturali. Quindi consulenza tecnico-scientifica, sopralluoghi, misurazioni appunto e indagini non differibili. Adesso tratto delle cose che le volevo passare velocemente perché sono in quel documento di coordinamento tra le ARPA per come aggredire, affrontare il problema delle emergenze ambientali e naturali. Qua cito soltanto un primo che ci siamo dati input cioè che le emergenze ambientali possono essere divise per così dire suddivise in due tipi. Quelle per cui bisogna essere assolutamente presenti e operativi immediatamente, quelle che possono essere dilazionate che sarebbero quelle urgenti ma se sei urgente ti ho fatto subito ecco, però è un modo che ci siamo detti per distinguere dal punto di vista del... E poi la normale operatività che fa parte delle attività degli eventi ordinari. La cosa che ne è risultata è che in queste linee guida come proposta è che ogni agenzia si deve dotare di un proprio sistema per la risposta alle emergenze. Anche qua poi vedremo che i CFDI in cui possono essere incardinate alcune agenzie non parlo di questo queste sono le emergenze per cui quando un cittadino o qualcuno sta succedendo qualcosa a chi si rivolge allora molte volte non è opportuno che si rivolga e su questo è importante anche un'azione di comunicazione ai cittadini come tante agenzie in parla della Toscana ma anche altri colleghi lo stanno facendo ma che si deve rivolgere ai vigili del fuoco piuttosto che del comune dipende dalla tipologia di intervento richiesto. Comunque a fronte di questo poi noi dobbiamo essere pronti a rispondere H24 per ricevere le segnalazioni sia dal cittadino o da un centro valutare le segnalazioni e individuare e attivare il personale sul posto. Il sistema come dicevo attualmente per i contesti regionali è disomogeneo però appunto è compito del sistema neonato sistema cercare di convergere e ottimizzare. L'ideale che molte alcune regioni ce l'hanno è il numero unico regionale piuttosto che il 112 come punto di riferimento che è quello anche indicato dalla comunità europea ma soprattutto avere una sala operativa unificata a livello regionale con l'obiettivo di smistare le richieste di intervento condividere le banche date e le informazioni e realizzare procedure condivise di intervento. Tutto questo deriva dal documento che dicevo prima. Quali sono per le agenzie e il sistema nazionale i maggiori interlocutori quello che dicevo è la protezione civile nell'ambito della previsione soccorso e superamento dell'emergenza le prefetture comuni vigili del fuoco forze dell'ordine il servizio sanitario nazionale e distretti idrografici per questo è sempre più necessario giungere e questo è un compito proprio del sistema a protocolli operativi condivisi cioè in cui sia chiaro chi fa che cosa che cosa è richiesto per parlare di rischi naturali va beh qua esponiamo quelle che sono le esigenze di formazione anche di coordinamento però volevo andare in breve tempo andare avanti riprendendo quali sono le principali attività delle agenzie del sistema per eventi di origine naturale che appunto che sono quelli che avevano prima cioè soprattutto del tipo idrologico idraulico lessicità meteorologiche che sono la prevenzione la previsione e la gestione degli eventi naturali e questo avviene attraverso sistemi e qui il collegamento con le imprese se ci sono delle imprese su questo interessate questa azione cosa facciamo noi facciamo un monitoraggio in tempo reale delle previsioni allora su quest'ambito qua per quanto riguarda l'impiantistica per quanto riguarda le manutenzioni per quanto riguarda i supporti per gestire queste emergenze qua le imprese sicuramente per quanto riguarda la parte innovativa sono chiamate ad essere propositive e sicuramente lo sono e in quest'ambito qui entra quello che diceva che alcune delle agenzie partecipano in maniera diretta o indiretta alla rete dei centri funzionali decentrati che sono quei centri regionali dai quali vengono tutti i giorni tutte le ore del giorno emanati gli avvisi di gricità sul territorio che ormai siamo abituati a sentire anche la televisione e la radio e che questi arrivano ad un centro nazionale a Roma che li coordina e che poi vengono ridiffusi nel territorio cioè questo problema anche poi di diffusione nel territorio di conoscenza al cittadino è anche questo un problema che ancora stiamo vivendo per chi lavora su questi argomenti sulla nostra pelle proprio perché c'è la difficoltà di coordinarci con un sistema quindi chi fa che cosa chi deve avvertire come deve avvertire e semmai solo due parole le diremo alla fine e tra gli eventi di origine naturale poi ci sono anche quelli con ricadute ambientali che vengono affrontati come le emergenze di origine antropica cioè se chiaramente c'è un'esondazione o un allagamento che implica un allagamento di un'area industriale importante chiaramente la trattazione viene fatta cioè l'intervento viene fatto come quelli delle emergenze di tipo ambientale antropico dove appunto le agenzie sono chiamate per dare il loro supporto nei termini che abbiamo detto prima un richiamo al rischio meteo idrogeologico idrogeologico per temporali idraulico come vengono date le allerte da parte dei centri funzionali e della protezione civile in questo momento vengono dati tre colori allerta gialla arancione rossa qua io adesso non mi voglio soffermare gran parte delle maggiori disgrazie nel nostro territorio sono venute con allerta gialla questo cosa vuol dire che proprio per alcuni eventi estremi e molto localizzati queste tipologie di allerta implicano che un'attenzione particolare del territorio cosa vuol dire gialla solitamente è un evento che può causare anche delle vittime ma che però non ha un'estensione grande può avere un'estensione limitata e quindi i comuni di solito non attivano tutte quelle fasi di il COC le cabine di regia per la gestione dell'emergenza però questo implica che però bisogna stare chi ha responsabilità sul territorio che a me sono i sindaci devono avere una particolare attenzione a questo tipo di emergenza per avvisare se possibile il territorio fare quelle azioni previste nel loro piano di protezione civile mentre l'allerta arancione e rossa entriamo già in una fase di sicuramente allerta conclamata e che proprio forse per questo motivo forse in alcuni casi ha anche meno vittime umane anche se maggiori danni dal punto di vista economico quali sono le esigenze e attività da effettuare come S NPA per raggiungere e mantenere le competenze per lo svolgimento del servizio pre-durante e post-emergenza allora c'è un problema di formazione e addestramento del personale partecipazione ad esercitazione di protezione civile attivare i percorsi di omogenizzazione e standardizzazione e soprattutto attivare un sistema a rete sovraregionale cioè questo soprattutto per le emergenze ambientali qualora io conosco che ci sono dei colleghi in ambito del sistema che hanno più competenza o esperienza di me su quell'intervento in questo momento il nostro desiderio è quello di far rete cioè di poter intervenire chiamando anche i colleghi ad aiutarci di altre regioni dell'ISPRA quello che sia non so perché l'ho raddoppiato tutto ah perché sono tornato indietro invece di andare avanti sono tornato indietro ecco scusatemi hai circa due minuti grazie ma ho finito ho finito volevo soltanto ricordare per le imprese quali strumenti con quali strumenti si opera per per i rischi naturali allora quella è la richiesta delle imprese perché oggi noi adoperiamo sistemi di monitoraggio modellistica procedure ma adesso anche su questa attività di monitoraggio in tempo reale sul territorio analisi da satellite si stanno sviluppando delle cose che sicuramente le imprese possono e devono dare il loro contributo mi scuso ancora per avanti e indietro che ho messo sbagliato grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti